Il derby della Madonnina può decidere il campionato. L'Inter vi arriva da capolista, Eriksen subito e fra Ibra e Lukaku che succederà? Il Milan si è fatto raggiungere dalla stella rossa in 10, perso Ben Nasser. La Roma giocherà a Benevento dopo il successo di Braga con i gol di Dzeko e Majoral. Inzaghi riavrà in prota. La Juve dopo la brutta sconfitta di Eoporto affronterà il Crotone senza Rabiot, Chiellini e Bonucci. Altro piatto forte Atalanta a Napoli rientreranno Toloi e Demme. In Coppa azzurrimale a Granada. La Lazio con la Samp non avrà Lazzari e Ut, Doriani con Candreva, un ex. Nella zona medio-bassa il Verona, senza Di Marco, giocherà sul campo di Ingenoa rilanciato. Nel derby Sassuolo-Bologna assente Boga, in campo Orsolini. Il Parma contro l'Udinese. Gol Cercasi, Gotti senza Pereira. Stasera due partite. In Fiorentina Spezia a Prandelli mancherà a Ribery, a Italiano Bastoni ed Erlic. Inoltre un drammatico Cagliari-Torino. Chi perde è perduto.